Hanno indagato Del Mastro per la fuga di notizie, perché avrebbe informato il suo compagno di stanza, che non è un pericoloso, ma è un parlamentare fratelli d'Italia, che c'era questo rapporto della Polizia Politenziaria che diceva guardate che i mafiosi sono vicini a Cospito e Cospito si batte non solo per se stesso, ma per la fine di carcere duro anche per tutti i mafiosi. Lui l'ha detto in Parlamento e si è aperta un'inchiesta contro Del Mastro per fuga di notizie. Il PM ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma ovviamente il giudice ha detto no, si va avanti, processiamo Del Mastro. Che colpa ha Del Mastro? Di cui ovviamente tutta la sinistra chiede le dimissioni, semplicemente è un sottosegretario del centrodestra e in particolare di Fratelli d'Italia, appunto di cui tutti chiedono di dire. Io mi chiedo, è la prova a distanza di tre giorni che il ministro Crovetto forse non era tutti torti dicendo questo governo se ne va bello sicuro, l'unica cosa che dobbiamo ottenere sono le inchieste giudiziarie di natura politica. Detto Del Mastro.